...della posizione, lungo lo stacciato, all'argo e veloce Ogbemus. I due cento iniziali copretti in 13 e mezzo, Meda Mesh al comando. E' un amistro di progetto che è sfruttato bene la seconda fila, preso delle Ogbemus, quindi e Telmash, ancora una gigante. E' un passaggio di fronte alle tribune con Nada Mesh che, una buona bella allegra, la segue Mesh, molto per il mio che ha avvenuto su Telmash, all'esterno viaggio a ombra del vento, quindi un basilicante, una patria all'argo, e il gol e l'età dei colli. Il numero di due è 42,6 con i primi 600 metri. E' adesso un 800, coperti in 57 appena abbondato. Nell'osina andatura, Meda Mesh, all'ascevo da vicino, la infa di Poggio, gli altri sono caretti e disposti, copeggiati da Ogbemus, il primo chilometro, in 1,12 appena scorso. Nada, Naif, Ogbemus. Ancora ombra dell'avvento. A 400 dalla conclusione, Nada alla comando, 1,27, 3 quarti di miglio, ma è di rincalzo Pogbemus. L'argo ombra dell'avvento, tende in media trio, onda gigante, ingresso della retta di arrivo, Nada attaccata da Ma è di Poggio, ma è che passa l'avventaggio, un seguito da Ogbemus. Ma è che è passato, e si avvantaggia. Ma è di Poggio vinci su Ogbemus, Magbemus. Ma è di Poggio.